Ho visto un soldato! Bombardiere localizzato! Bombardiere localizzato! Soldato nemico individuato! Ho visto uno dei loro soldati! Contatto visivo con un soldato nemico! Bombardiere localizzato! Bombardiere localizzato! We have lost Objective Butter. Ehi! Là c'è un soldato! Dobbiamo conquistare l'obiettivo! Return to the combat area. We have lost Objective George. Attenzione! Quello è un soldato nemico! We have lost Objective Charlie. Ehi! C'è una mitragliatrice! Ehi! Return to the combat area. We have taken Objective Duff. We have taken Objective Butter. We have taken Objective Butter. Da giù! Quello è un crocco! Abbiamo perduto l'obiettivo, Edward. Attenzione, attenzione, soldato nemico! L'obiettivo è un crocco! L'obiettivo, soldato nemico! Return to the combat area. Vedo delle armi antiaeree! Abbiamo perduto l'obiettivo, Duff. Un soldato nemico! Lì! L'obiettivo, soldato nemico! 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 Soldato nemico individuato! Contatto visivo con un soldato nemico! Laggiù! Quello è un crocco! Riturno alla zona di combattimento! Ehi! Là c'è un soldato! Attenzione! Quello è un soldato nemico! Ho visto un soldato! Siamo attenti! C'è un soldato! Visto? Uno dei loro soldati! Vedo uno dei loro soldati! Vedo uno dei loro soldati! Vedo uno dei soldati Sobrettiтрusto Il buon anno è un soldato! Vedo altri soldati! Vedovi segni aspettare�도 anche assiste! Grazie a tutti.